La coca nella cola. No, non è un gioco di parole, ma l'ultima frontiera degli spacciatori di sostanze stupefacenti. A scoprirla sono stati i carabinieri del nucleo radiomobile di Bari, che nel corso di un servizio antidroga sul territorio hanno tratto in arresto un 43enne incensurato, residente nel quartiere Libertà. Le manette sono scattate a seguito di una perquisizione nell'abitazione dell'uomo, che all'arrivo dei militari ha subito consegnato spontaneamente una borsa frigo contenente 26 grammi lordi di cocaina, del nastro adesivo e altro materiale utile per il confezionamento delle dosi. I controlli si sono poi spostati nella camera da letto, dove gli uomini dell'arma hanno scoperto un vero e proprio laboratorio degli stupefacenti. In diversi punti della stanza sono stati rimbenuti altri 71 grammi della stessa sostanza, suddivisi in oltre 100 dosi pronte per essere spacciate. Assieme a 140 grammi di sostanza polverosa da taglio ed una pressa in acciaio utilizzata per la compressione della droga. Ma non è tutto. La scoperta più importante i militari l'hanno fatta quando hanno aperto un mobile adibito a dispensa nella cucina. Qui, all'interno di alcune finte bottiglie di cola, nascoste tra alte confezioni di analcolico, sono state rimbenute numerose palline di cocaina. Ogni bottiglia era stata suddivisa in due parti, quella superiore amovibile e contenente un liquido di colore scuro, simile alla bevanda. Quella inferiore costituita da un doppio fondo coperto dall'etichetta in cui era possibile occultare lo stupefacente. La droga era sigillata con nastro adesivo di colore diverso a seconda del peso di ciascuna dose. 70 quelle sequestrate complessivamente dai carabinieri nel corso dell'operazione che si è conclusa con l'arresto del padrone di casa. L'uomo dovrà rispondere di detenzione e fini di spaccio di sostanze stupefacenti.